Fanogeo da tempo è diventata una kermess in piena regola e non solo un evento spot di due giorni ma un vero e proprio contenitore della durata di una decina di giorni che comprende e ingloba diversi eventi tutti con tema l'agricoltura e il mondo rurale. Si è partiti venerdì 20 maggio con la presentazione del libro del giornalista e collaboratore Rai Piero Riccardi, riprendiamoci il cibo ed una degustazione in serata di ricette di alta gastronomia ma con un'identità locale ben precisa e si finirà sabato e domenica prossimi con la festa della mietitura alla cooperativa Falcineto. In mezzo sabato e domenica appena passati al Codma di Rosciano è andata in scena la 28esima edizione della Fiera Agricola che da sempre rappresenta l'appuntamento per eccellenza per agricoltori e appassionati del mondo rurale. Da due stagioni sotto l'egida della proloco di Fano con il chiaro intento di far fare a questo appuntamento di inizio estate un vero salto di qualità. Fano Geo l'abbiamo presa per farla crescere, due anni che ce l'abbiamo e quest'anno siamo soddisfatti, siamo soddisfatti perché le due giornate di sole ci hanno portato gente, tante didattiche, tanti produttori, quindi veramente una bella edizione, ancora con tante possibilità di crescita perché abbiamo tanti agricoltori che ci potrebbero aiutare e già qualche aggancio l'abbiamo preso, una bellissima edizione per il momento. All'inaugurazione di sabato mattina hanno partecipato oltre alle autorità locali, provinciali e regionali più di 300 bambini per i laboratori di didattica che hanno invaso il Codma con la loro allegria e curiosità, rapiti come sempre dagli animali presenti e dalle esibizioni dei rapaci, visti per lo più sui libri di scuola. L'agricoltura è un settore importante, qui abbiamo eccellenze importanti, aziende importanti, quindi questa manifestazione che è giunta alla 28esima edizione conferma le radici e questo legame forte. Ora il teatro di Fanogeo si sposta nei campi, martedì 24 maggio e giovedì 26 per le giornate del grano e le prove di aratura con i giganteschi trattori e poi sabato e domenica al Falcinetto Park, altri due giorni a tutta campagna.